buongiorno a tutti benvenuti e bentornati sul mio canale io sono elisa sono sarta e condivido con voi tutto quello che ruota attorno al mondo del cucito con video tutorial qua sul canale youtube e con tanti consigli piccoli tutorial in immagini consulenze gratuite e tant'altro sulle pagine instagram e facebook quindi se vi va passate a trovarmi nei video di oggi vi porto alla scoperta di un accessorio strepitoso utile nel cucito sartoriale ma quasi indispensabile ma davvero molto molto utile e vedrete perché nel cucito creativo questo accessorio vi permette di rifinire e bordare tutti i vostri lavori in pochissimo tempo e in maniera semplicissima quindi bavaglie tovaglietta l'americana presine trapunte di tutto e di più velocizzerete il tempo perché come vi dicevo è un accessorio davvero straordinario ora vedremo di cosa si tratta e come funziona l'accessorio di cui vi sto parlando è questo si chiama quilt binder se l'ho detto giusto in questo caso è di usuarna viking ma si può montare anche su faffa perché entrambi i piedini sono identici quindi si possono montare su entrambe le macchine ho detto piedino ma in realtà è un accessorio all'interno della confezione troviamo il foglietto delle istruzioni che è in inglese ma sul sito potete tranquillamente scaricarlo in italiano troviamo l'accessorio stesso lo troveremo con la griglia chiusa io la chiamo griglia chiamatela un pochino come volete che andrà aperta la placchetta per poterlo montare alla macchina da cucire con le relative viti per bloccarla e poi questo piedino placchetta che andrebbe in teoria agganciato sotto al piedino doppio trasporto nel mio caso ho la macchina con doppio trasporto integrato quindi probabilmente anzi sicuramente non andrò ad utilizzarlo come vi dicevo c'è sia per macchine faffa che per usuarna viking ma anche per altre macchine già no ma anche per altre marchi c'è questo accessorio ma bisogna fare attenzione a una cosa perché non è applicabile su tutte le macchine nonostante siano dalla stessa marca quello di cui bisogna accertarsi è che le nostre placche abbiano questi due forellini nel caso non abbiano questi due forellini allora bisognerebbe procurarsi anche la placca dotata di questi due fori ok so che non vedete l'ora di vederlo in funzione quindi andiamo a montarlo la placchetta andrà posizionata in questa maniera questo foro andrà fatto combaciare con questo forellino e questo qua andrà inserito nel forellino sotto quindi la andiamo appoggiare in questo modo ok quindi andiamo a posizionare la nostra bella vitina e andiamo a bloccare la placchetta posizioniamo l'accessorio con l'apertura lo andiamo ad appoggiare su questa specie di asola e lo andiamo a fermare con le sue vitine mettete sotto la vite anche la rondellina perché questo farà sì di bloccarlo e far sì che comunque non si sposti un consiglio prima di montare questo bellissimo accessorio assicuratevi di non aver bisogno nulla di non dover che la vostra spolettina sia piena per il vostro caso perché altrimenti per poter aprire il cassetto dovrete per forza smontarlo e non è carino quindi andiamo a stringere le nostre viti perché queste due viti perché questo punto qua deve essere posizionato dove noi vogliamo realizzare la nostra cucitura quindi allentando un pochino le due viti avete la possibilità di spostarlo a destra e sinistra di modo da riuscire a centrare perfettamente la cucitura come volete voi in caso abbiate la macchina che sposta l'ago a destra o a sinistra potete comunque bloccarlo e andare a spostare l'ago è possibile utilizzarlo con strisce di tessuto che diventeranno il nostro sbieco mezzo arcano svelato di altezza di quattro centimetri e mezzo come andiamo inserirle allora innanzitutto andiamo un attimino a togliere ad appuntire il nostro tessuto per facilitare il passaggio dopodiché cominciamo a farlo alternare lo inseriamo alternandolo all'interno della nostra griglia questo permetterà durante le cuciture di far sì che il tessuto rimanga atteso rimanga fermo attenzione a tenerlo bello aperto e lavoreremo con il tessuto con il rovescio che ci guarda per inserirlo all'interno andremo ad utilizzare un punteruolo una pinzetta un cacciavitino qualsiasi cosa possa aiutarvi ad agevolare il passaggio una volta arrivato in fondo lo andiamo a tirare verso l'esterno finché noterete che si formano le due pieghe una sopra e una sotto andrà a crearsi proprio il nostro sbieco se notate all'interno della di questa fessura si sono formate le due pieghe che saranno il nostro sbieco queste due lamelle questa qua e questa vanno a regolare il punto esatto della piega perché sappiamo che lo sbieco normalmente nella parte alta è un paio di millimetri più corto diciamo rispetto al sotto di modo da essere sicuri da riuscire a prendere perfettamente anche il tessuto sotto queste due lamelle vengono regolate da queste due viti svitando questa vita questa la vite di destra potete portare avanti e indietro la lamella sotto e svitando e spostando la vite di sinistra potete andare a spostare avanti o indietro di poco poco la lamella sopra quindi assicuratevi che la lamella sotto sia un paio di millimetri più spostata rispetto a quella sopra arrivati fin qua prendiamo il nostro tessuto da bordare fra un po si compirà la magia lo andiamo a inserire all'interno dello sbieco abbassiamo il piedino andiamo a controllare che l'ago vada a cucire nella posizione corretta e iniziamo a cucire a questo punto l'unica cosa che dovremo fare sarà quella di assicurarci di mantenere il tessuto all'interno della fessura il resto lo farà tutto da solo una volta che avrete terminato la cucitura volendo potete anche proseguire andando a formare quello che sarà il vostro laccetto per una bavaglia o eccetera eccetera e quello che otterremo sarà che questo accessorio ci permetterà di fare queste bordature in automatico senza che noi dobbiamo fare nulla ma non solo perché quando noi facciamo questi lavori ovviamente ci troviamo di fronte agli odiatissimi angoli e con questo accessorio possiamo andare tranquillamente a realizzarli ovviamente ci vuole un pochino di manualità e un pochino esercizio anche nel mio caso io ce l'ho da pochissimo quindi faccio ancora in fatica e sto cercando un attimino di prenderci la mano comunque andiamo avanti a realizzare la nostra cucitura e andremo a cucire fino all'angolo nel momento in cui arriviamo all'angolo semplicemente faremo qualche punto avanti indietro quindi che cosa facciamo alziamo il piedino alziamo l'ago andiamo a tirare verso l'esterno il nostro bordo lo blocchiamo con le dita ci giriamo in questa maniera e praticamente andiamo con il pollice a sistemare questa parte di sbieco di modo da riuscire a formare un angolo perfetto a 45 gradi una volta che siamo riusciti a sistemare bene bene il nostro angolino lo andiamo a puntare con uno spillo quindi prendo dall'esterno la mia striscia riporto leggermente dentro il mio bordo e vado a posizionarmi sotto il piedino esattamente nella posizione nella quale devo iniziare a cucire una volta che ci siamo posizionate bene con l'ago e tutto ripartiamo con la nostra cucitura io sono certa che le appassionate di cucito creativo riusciranno a farlo meglio di me che sono più per il sartoriale comunque il concetto è questo guardate un po tiriamo fuori tutto in questo momento e come vedete io non sono stata bravissima ma con un pochino di esercizio si riesce a fare anche il nostro angolino infatti come potete vedere con un pochino di pratica e il filo adesso io sotto avevo il filo rosso vedete con un pochino di esercizio riuscirete a bordare perfettamente i vostri angoli o perché no anche a fare l'orlo la bordatura all'orlo di una vostra gonna allora l'ultimo consiglio prima però voglio dirvi che questo piedino lo potete trovare da safara cucito vi lascio il link qua sotto e se ve ne siete innamorate con il codice elisa 10 potete acquistarlo con il 10 per cento di sconto il consiglio che volevo darvi è quello di iniziare a provare questo accessorio ho detto ancora piedino ma in realtà un accessorio di iniziare a provarlo con tessuti leggeri semplici dopodiché una volta che avete preso la manualità corretta potete buttarvi nel quilt e bordare le vostre trapunte tovaglie e tutto quanto desiderate a me è piaciuto tantissimo spero di essere riuscita in questo video a spiegarvi al meglio come funziona noi ci vediamo al prossimo video ciao